salve a tutti ragazzi ed eccoci qui finalmente in questo nuovissimo video ed oggi amici miei come potete vedere ci troviamo sempre qui su skyrim nel video di oggi visto che nello scorso video abbiamo visto come ottenere le nuove balestre mi sono detto perché in quest'altro non andiamo a vedere i nuovi sei tipi di frecce che si possono sempre ottenere attraverso il creation club skyrim anniversary edition c'è da dire una cosa questi nuovi tipi di frecce 4 si possono creare fin da subito una volta che voi installate il contenuto andate ad una forgia e potete crearle per le altre due invece andremo a vedere cosa dobbiamo recuperare per poi avere la possibilità di andarle a creare prima però di iniziare come sempre vi ricordo di lasciare un like un commento di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto per supportare i miei video detto ciò possiamo aprire la mappa e da wightran dirigerci direttamente all'accademia di winter old dobbiamo entrare nella sala degli elementi per poi andare qui sulla destra e salire alla biblioteca su questo tavolo infatti ci sarà un libro un tomo magico per l'esattezza e una nota gli appunti sulle frecce telecinetiche e il tomo magico freccia telecinetica andiamo a leggere prima l'appunto questo tomo insegna al lettore l'arte della freccia telecinetica fornendo un potere minore e le nozioni necessarie alla creazione di queste frecce speciali dopo aver scoccato la freccia questa si ritroverà sospesa in aria finché non viene lanciato il potere minore di telecinesi a quel punto la freccia comincia la sua corsa pare che solo un certo numero di frecce possa restare sospeso nell'area contemporaneamente tentare di scoccare più i 10 comporta il ritorno di quelle in eccesso alla faretra inoltre è possibile raccogliere le frecce mentre sono sospese in aria quando entrano in contatto con qualcosa le frecce perdono il potere e non possono essere recuperate siccome hanno proprietà magiche intrinseche non possono ricevere gli incantamenti dell'arco con cui vengono scoccate praticamente ci sta dicendo che se abbiamo un arco con un incantamento che ne so di fuoco le frecce una volta che andranno a colpire il nemico non applicheranno quel danno quindi recuperiamo la nota e recuperiamo anche il tomo magico rilascia le frecce telecinetiche sospese in aria impariamolo una volta fatto ciò possiamo andare a creare le nostre nuove frecce prima di andare a vedere tutte le frecce però e come funziona quella telecinetica voglio mostrarvi l'ultima freccia dove si ottiene dobbiamo questa volta dirigerci come state vedendo mi trovo a roccia del corvo esattamente a soul steam sempre sulla nostra bella isola dell'espansione di dragonborn apriamo la mappa e vediamo dove dobbiamo dirigerci esattamente a kagrumets in questo luogo magico che sicuramente molti di voi conosceranno se non siete mai stati in questo posto ci feci un video tanti anni fa quindi se ve lo siete persi e non sapete come andare avanti vi consiglio assolutamente di guardare quel video più che altro che una volta arrivati in questo luogo per andare avanti ci serviranno delle gemme che saranno sparse per tutta l'isola e quindi io vi consiglio di andare a vedere il video una volta però che voi riuscite a ottenerle completare l'enigma possiamo proseguire in quella direzione continuare fra le varie stanze fino a giungere in questo punto esatto dove troveremo l'arco nanico nero del destino e anche questa è un'arma unica che sicuramente conoscete anche qui potete trovare il video sul mio canale ma quello che a noi interessa saranno le frecce rubanima questo nuovo tipo di freccia insieme allo schema freccia duemer andiamo a leggere questo foglio ci illustra quello che effettivamente andrà a fare questo tipo di freccia praticamente è in grado di prendere l'anima di una persona e caricare una gemma recuperiamo il fogliettino e prendiamo anche le frecce e ora non ci resta che uscire da questo posto andare a white ran alla nostra forgia celeste e provare tutte queste nuove frecce una volta giunti alla forgia per crearle dobbiamo andare su varie e qui troveremo i nostri sei tipi di freccia partendo dalla freccia addosso la freccia di fuoco quella di ghiaccio la freccia elettrica la freccia rubanima che ha come incantamento che dopo un colpo letale si manifesta in una gemma dell'anima contenente l'anima del bersaglio e per finire la freccia telecinetica mi raccomando sempre su varie potete trovare la punta di freccia di gemma dell'anima questo oggetto vi consentirà poi di creare le frecce rubanima ora le creerò tutte e le proveremo insieme come primo tipo di freccia che andremo analizzare anche da un punto di vista estetico sono le frecce d'osso come potete vedere la faretra il contenitore delle frecce è spettacolare questa testa di drago questo teschio di drago è bellissimo andiamo a caricare la freccia e scocchiamo la particolarità di questa freccia da un punto di vista estetico e che ha la punta seghettata non so se da questa posizione si riesce a vedere bene comunque niente di eccezionale ora passiamo alla freccia di fuoco come vedete questa volta il contenitore ha una forma diversa ha anche un simbolo runico sulla parte inferiore con del fuoco che fuoriesce e queste frecce che hanno la piuma finale di color arancione andiamo a caricare la freccia e lanciamo come potete vedere da un punto di vista estetico questa volta la freccia ha un effetto questa fiamma di fuoco che poi va a esplodere una volta che andiamo a lanciarla ora tocca alla freccia di ghiaccio anche qui stesso discorso di quella di fuoco la faretra nella parte inferiore ha un simbolo runico con del ghiaccio al suo interno e anche le frecce sono di colore diverso in questo caso l'azzurro il celeste carichiamo la freccia e scocchiamo anche qui molto bella l'estetica questo effetto di ghiaccio fa danno di ghiaccio creando questa esplosione passiamo ora alla freccia elettrica anche qui simbolo runico dell'elettricità in basso con tutta l'elettricità che fuoriesce le frecce anche qui hanno una colorazione diversa tendente al viola molto molto belle carichiamo la freccia e scocchiamo comunque da notare l'estetica delle frecce che sono tutte diverse non cambia solamente l'effetto dell'incantamento e dell'elemento a cui appartengono ma cambia la punta e tutta la parte centrale della freccia questa dell'elettricità secondo me è la migliore queste invece sono le frecce rubanima da un punto di vista estetico non è niente di eccezionale comunque come sempre andiamo a caricare la freccia e scocchiamo come avete visto ci sarà una sorta di esplosione che andrà a risucchiare l'anima della persona che andremo a colpire da notare anche qui l'estetica della freccia come cambia da notare la punta che è proprio creata attraverso un frammento della gemma dell'anima e come ultima abbiamo la freccia più divertente di tutte la freccia telecinetica anche qui il contenitore è sempre uguale cambiano le frecce da un punto di vista estetico il piumaggio cambia il colore più che altro e anche la runa prima di utilizzare la freccia mi raccomando andate su poteri e selezionate le frecce telecinetiche altrimenti non funzionano andiamo a caricare la freccia come vedete non ha nessun effetto attorno alla freccia stessa l'estetica però cambia proviamo a lanciarla e come vedete amici miei la freccia rimarrà sospesa come diceva la nota noi possiamo lanciarne fino a un massimo di 10 possiamo anche andarle a recuperare mentre sono in volo non ci resta che lanciarle un po potete anche cambiare direzione quindi farle diciamo sparare da più punti una volta che le avete scoccate non vi resta quindi che cliccare il tasto che utilizzate per lanciare l'urlo e come vedete le frecce partiranno il danno che provocheranno queste frecce è tantissimo vi faccio vedere un'altra volta questa volta ci mettiamo da questa angolazione e come vedete sono tutte giunte al bersaglio come diceva la nota non è possibile recuperarle una volta lanciate amici miei il video termina qui abbiamo visto queste nuove sei tipi di frecce spero come sempre che il video sia stato di vostro gradimento fatemi sapere cosa ne pensate e quale tra queste sei frecce voi preferite io vi ringrazio e come sempre vi ricordo di lasciare un like un commento di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e ci vediamo ad un prossimo video ciao